Artisti, cantanti, comici e tante persone comuni, tutti insieme per Sorrido Grazie a Te, evento benefico promosso dall'Associazione Alessandro Peluso. La Onlus, nata per volontà della famiglia di Alessandro Peluso, prematuramente scomparso all'età di 26 anni a causa di una malattia, ogni anno accoglie un gruppo di bambini dell'età compresa tra i 7 e 11 anni, provenienti da Minsk, capitale della Bielorussia, situata nell'area di Chernobyl. I bambini soggiornano nella struttura dell'Associazione La Casa di Alessandro, una villetta situata a pochi passi dal mare che si trova nella zona di Pinitamare, villaggio Coppola. Durante il soggiorno svolgono attività sia terapeutiche che ludico-ricreative affinché le loro condizioni di salute possano migliorare sia sotto il profilo fisico che quello psicologico. Ai nostri microfoni Francesco Peluso. Abbiamo accolto più di 100 bambini in quest'arco temporale. Siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto, cerchiamo sempre in più di farlo crescere, di portare più eleganza, più raffinatezza e grazie agli amici artisti. L'evento solidale presentato da Gigio Rosa e Claudia Mercurio ha visto la straordinaria partecipazione ed esibizione sul palco di numerosi artisti, tra i quali Gigi Finizio, Rosalia Porcaro, Franco Ricciardi, Anna Falchi e Peppe Iudice. Ma ascoltiamo alcuni dei protagonisti della serata. Il progetto che è strutturato parte dalla nostra terra e arriva ai bambini di Chernobyl. In pratica sono io stasera testimonial di questo progetto e stiamo cercando di farlo crescere sempre di più per divulgare un grande messaggio, il sorriso. Comi qua, insomma un buon motivo per essere qua stasera, vedo che c'è anche molta affluenza, molta affluenza, quindi mi fa piacere per un tema così importante che sono i bambini, che comunque sono il nostro futuro, dargli un po' di allegria, un po' di evasione. Poi so che sono bambini che comunque hanno già affrontato un percorso molto importante quando si tratta di bambini, infatti non per niente mi sono portata anche mia figlia, mia nipote. Ragazzi, ma come si fa a dire di no? Nel senso che veramente è una cosa alla quale tengo e mi fa piacere esserci quando non può, può. Ma ne manca questa cosa che sto facendo a fare, che sembra che uno che lo sapeva che fa. Sembra che noi artisti quando veniamo ad una parte poi pare che sta a zappare, cioè eh però, per venire qua ce n'è voluto, non c'è proprio niente, purtroppo che sto a Napoli. Io non ho una cosa che sembra Istanbul è già... Grazie a tutti.